... Parte Krimzarevic con il sinistro, il tiro è alto. Minuti di gioco due nel corso del primo tempo, risultato di 0-0. Spogliarets, la finta... Palla affidata ancora a Zolacchi, si gira... Krimzarevic va in dritto di punizione. E l'Inter non riesce a spostare per farlo con una battuta sul primo palo, ha recuperato Kristofi sui... Krimzarevic... Buona la finta... Sfiora Krimzarevic... E poi c'è... ...Cepovic... Vedete Cepovic, palla insidiosissima... Sfiora Krimzarevic...